Ritorno al futuro per Fabrizio Taricco, già sindaco di Carnago per due mandati, ricandidato alle amministrative di giugno, obiettivo dare nuove prospettive al paese, puntando sul coinvolgimento e servizi. È proprio un nuovo modo di stare insieme da parte di tutti i carnaghesi, ritrovare la capacità e la voglia di dialogare, di confrontarsi e l'amministrazione deve dare una sorta di esempio, deve essere in mezzo ai cittadini. Io direi che è tempo di passare da quello che era uno slogan di Porti Aperti in Comune ad un modo diverso, cioè l'amministrazione va verso il cittadino, si confronta e con il cittadino dialoga sulle questioni più importanti.